Allora amici ascoltatori, se vogliamo cominciare, Mario Bianchi sento delle musiche, un attimo e mi preparo, prepariamoci con calma oggi, non mi chiudete la porta, me la date, i concorrenti sono pronti, siamo pronti Mike, un attimo, sono un po' lucido, mi chiamate la truccatrice, arriva, arriva, vieni dammi una bella tamponata, devo essere tamponato, questo è il primo dei bambini, me li fate entrare una alla volta, ok ciao bambino, ciao Mike, allora te l'ho detto già altre volte, un altro ma sei sempre te, non ti permettere di chiamarmi Mike, come se fossi il tuo vicino di casa o il tuo compagno di banco, non ci conosciamo, sei solo un concorrento e dammi del voi, per favore, ok? Va bene signor Mike, ok, stai calmo, tranquillo, ti spiego, partirà la sigla, dopo la sigla io dirò benvenuti eccetera 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 e quando a un certo punto mi rivolgerò a te mi girerò e ti guarderò, ok? E ti dirò ciao come ti chiami, ok? Cosa devo dire? Se io ti dico come ti chiami, ovviamente mi devi dire il nome, il nome fracico, un bimbo fracico, mi avete mandato un bimbo, non voglio cominciare adesso a insultarlo, per favore Non perda la calma Mike, per favore C'è qualcuno? No, non perda la calma Forza e coraggio, eh? Allora Mario Bianchi Siamo pronti Mike Allora, fiato alle trumbe Benvenuti amici ascoltatori a un'altra puntata di Tandem Mike Hai detto Tandem, dobbiamo rifare Eh sì, eh Ho detto Tandem Eh sì Sì Mike Lo siete sicuri? Mi sembrava impossibile No, no, l'ha detto Ma ti pare che io dica Tandem? L'ha detto Non dico mica Tandem Tandem, se non sbaglio, era un programma per bambini Eh perché questo cos'è? Che conduceva a frizzi Non io, eh Mike, dobbiamo rifare, abbiamo contro la pallina Forse Franco Danè, ve lo ricordate? Sì, me lo ricordo Franco Danè, me lo ricordo io Eh Vabbè, ho sbagliato Eh Si può sbagliare, rifacciamo Sì Avete i telespettatori, benvenuti ad un'altra puntata di Genius Oh, finalmente Benissimo Ed eccolo qua, il primo concorrente Allora, come ti chiami piccolo bambino? Olindo Che nome Ma che bel nome Pensa, aveva una rondine che si chiamava Olindo L'unico che ha le rondine ammaestrati Avevo una rondine domestica che avevo regalato a primavera al mio Leonino Pensate, quel rondinotto lo chiamai Olindo Pensate, guarda tu i casi della vita Possiamo rifarla perché questa storia della rondine Ovviamente non interessa a una cippa di nessuno Ascoltatori Esatto Rifaccio, rifaccio dalla domanda Sì Dalla domanda del nome Il nome si mai Come ti chiami? Olindo Bene, ma che bel nome Quanti anni hai? Nove Quasi dieci Quell'altra non mi interessa Dimmi solo un numero Per favore Siamo qui in televisione La gente non gli importa nulla Se tu compirai tra un po' gli anni Di un numero Decidi o nove o dieci Dieci Ok, allora lui dirà dieci Riprendiamo da qui Quanti anni hai? Dieci Bravo Complimenti E quando li compirai questi dieci anni A maggio Allora ne hai nove e mezzo Sì Ma è stato lui a dire Allora dillo Cerca di essere preciso Ma ha detto mai Allora, sei sudato? Come sudato? Ma quanto suda questo qui amici ascoltatori? Ma come suda? Mario Bianchi? Sì mai Lo vedi? Dal monitor è sudato Bagnato fradicio Allora addirittura Gli resta la carta attaccata in fronte a questo qua Ma come? Veramente è impressionante Amici ascoltatori Non posso andare mica avanti Puzza come un'ostrica Lasciata fuori dal frigo per tre giorni Amici ascoltatori È impossibile Taglia tutto questo Ricominciamo da qui Allora piccolo Che lavoro fa il tuo papà? Mio papà fa il bancarottiere Ma come il bancarottiere? Il bancarottiere amici ascoltatori Ma che bel lavoro Quindi tuo papà Pensate Diventa azionista di maggioranza Di un'azienda La porta quasi sull'astrico Mettendosi da parte Un bel gruzzoletto E prima che fallisca Vende tutti Tutti Vende tutto Vende tutti I poveri dignari Disparmiatori Dei bond E delle belle obbligazioni Che poi saranno Solo carta straccia Pensate Per assurdo Potrebbe avere più valore Un Kleenex usato Pensate Che anch'io Quando ero in America Per due anni Ho fatto il bancarottiere Per due anni Ero dirigente Della Enron Mandai sull'astrico Milioni di americani Pensate Che mi inseguivano ovunque E mi accusavano Di essere Il responsabile Del crollo Di Wall Street Ero io E Turchetti E mi ricordo Che gli gridavo Fiato alle gambe Turchetti E scappavamo Con un gommone Pensate Un gommone E indovinate Chi guidava Quel gommone Indro Montanelli Che mi disse Meglio che vai in Italia Perché se vi beccano Sono dolori E fu così Che cominciò La mia carriera in Italia Ma questa è un'altra storia Amici ascoltatori Allora Andiamo con la domanda Sì, sì Stai calmino Devi stare molto calmo Va bene? Sì Forza e coraggio Sì Forza Sì Hai coraggio Eh Forza Ma è È coraggio Sì La sai Forza e coraggio No, dico La sai la domanda E se non me la fa È vero È vero Devo tagliare qui E allora faccio la domanda Sì Domanda di matematica Sì Qual è? Qual è? Sì Il numero Perfetto Sì Ti do Tre opzioni Amici Due Tre Stella No, che stella Quella non c'entra Stella Ecco, lo sapevo Figurati se lui Stella, amici ascoltatori Ma stella non è mica un numero Eh, no Eh, no Mario Sì, vai Me lo confermi? Sì Stella non è un numero Sì, no Dico la risposta esatta La tre Numero tre Siamo sicuri? Ma come siamo sicuri pure? Tre può essere mai un numero perfetto È dispari Eh, lo so Ma il tre è il numero perfetto Secondo me i numeri perfetti sono pari Ma beh, adesso rifà la matematica Se io dico cento, lo divido per due Eh E diventa cinquanta È perfetto Ma tre Non restano spiccioli, niente Ma il tre come cavolo fai A dividerlo per due Quindi il bambino può essere che ha ragione Eh, sì, ha ragione La stella ha cinque punte Le stelle sono tanti Milioni e di milioni Amici ascoltatori Eh Se sono due milioni di stelle Le dividi Diventano un milione È un numero perfetto Eh, Mario, controllami Questa cosa Non voglio fare una figura da te È andato Ma il tre è il numero tre Eh, sì Il numero tre è un numero perfetto Eh, purtroppo Mi sembra anche bruttino Anche a vedersi, insomma Ma che adesso Da queste volute Da queste cose storte Quindi devo dirgli Che la risposta esatta è tre Sì Va bene Glielo dirò È tre, Mike Va bene Se sono convinti loro Allora, bambino Mi dispiace La risposta Non è stella Ma era un numero È tre Tre È tre Amici ascoltatori Come hai fatto A sbagliare E vai con la pubblicità Pubblicità No, meno male È finita Ma sei un tordo No Sei un cretino No Ma sei un piccolo Lanzichenecco stichito No Ma come hai fatto a sbagliare A dirmi a dirmi Il numero tre Sei un pezzo di pane Masticato Io non so Maledetto il giorno I tuoi genitori Ti hanno copulato No, Mike Per averti Avrebbero fatto meglio Ad andarsene ad un'esse lunga E fare la spesa Quella sera Sei più fastidioso Di un reflusso gastrico Sei una meba Ma cos'hai al posto del cervello Chiodi di galofano Amici ascoltatori Sei più storto Di un tarallo Hai il cosiente intellettivo Di un verme da tequila Avete ascoltatori Roba da Matischi Affeggerei Con una pala di fico d'impia Ma dove lo abbiamo trovato Questo qui Al canile Sei un orzaiolo Brutto deficiente E polpastrello di cane